Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come GFBip7, il cast già sta prendendo forma? Arrivano le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti anche se qualcuna è già smentita GFBip7, il cast del reality è già stato deciso? Dal web arrivano le prime anticipazioni, tra i concorrenti c'è anche un ex naufraga molto famosa? La verità GFBip7 cast.non è passato neanche un mese dalla fine della sesta edizione del programma che già si pensa al prossimo settembre Alfonso Signorini, infatti, ha già confermato la sua presenza alla guida del reality anche per le prossima attesissima stagione Per ora il conduttore si sta godendo un po' di meritata vacanza e DGF non ne vuole proprio sapere Tra qualche tempo, però, ha rivelato a TV sorrisi e canzoni che inizieranno già i preparativi per l'anno prossimo D'altronde per organizzare sei mesi di programma il lavoro è lungo e anche reclutare tutti i partecipanti non è facile Tra rifiuti e trattative Signorini e la sua redazione pare abbiano già qualche idea sul cast Forse è presto per fare previsioni ma sul web già alcuni nomi sono usciti fuori e qualche VIP ha già dato la sua disponibilità, mentre qualcun altro rifiuta già l'idea di partecipare GF VIP 7, il cast è indiscrezione, conferme smentite.Di qualche ora fa è la notizia che circola sul web in merito ad un ex concorrente dell'Isola dei Famosi, o meglio delle lezioni dell'anno scorso La ragazza in questione è Drusila Gucci, ereditiera della nota famiglia, che alcuni indicano come futura geffina L'investigatore social, H. Alessandro Rosica, ha smentito la notizia sulla sua pagina Instagram bollandola come fake news La ragazza al momento sta seguendo il suo fidanzato Francesco Chioffalo, impegnato come pupo nel programma La pupa e il secchione Pare però non sia interessata a partecipare ad un altro reality e, in effetti, anche l'anno scorso all'Isola era stata felice di tornare a casa presto Altre indiscrezioni sul cast del GF VIP 7 riguardano la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, conosciuta per aver condotto il GF VIP Party di quest'anno, sul web, insieme a Giulia Salemi La ragazza, tuttavia, ha smentito la notizia dal suo profilo social ammettendo che non reggerebbe psicologicamente la pressione al quale il programma sottopone Interessato ad un'altra edizione pare, invece, Alex Belli. Dopo esser stato onnipresente quest'anno, l'attore si è detto interessato a replicare Chissà che l'anno prossimo Signorini e i suoi collaboratori non decidano di fare un GF misto tra VIP e VIP Il conduttore ha risposto ad una lettrice di chi ammettendo che l'idea gli piacerebbe molto Ci vediamo nei prossimi video